Possiamo andare anche ad automatizzare il processo di inserimento delle coordinate perché insomma non è molto smart, ora ci vuole, andare a inserire manualmente le coordinate di ogni punto che andiamo a mettere sul mappo. Per cui anche in questo caso ci vengono incontro quelle che sono le funzioni qui nell'area default. Sono anch'esse automatizzabili e in particolare quello che possiamo andare a fare praticamente qui è crearci una nostra espressione, diciamo così. Allora ad esempio io voglio che non vengano salvate solo le coordinate in questo campo che è testuale ma mi venga anche espresso l'informazione relativa al tipo di EPSG che sto utilizzando. In questo caso è il 32633. Quindi inserisco questa informazione, do uno spazio e a questo punto vado a mettere un doppio pipe che mi interrompe questa stringa e mi consente di andare a inserire una funzione tra queste qui presenti nel calcolatore. E la funzione che a me interessa è quella relativa alla X, quindi la coordinata X. Voglio che venga anche inserita la coordinata Y, quindi inserisco di nuovo un doppio pipe, magari gli do un trattino di spazio in modo che viene resa più leggibile la lettura delle coordinate e vado quindi a inserire anche la coordinata Y. Come vedremo a breve avrò praticamente una stringa testuale in cui ci sarà l'EPSG e le coordinate di quel punto. La funzione così come è inserita è corretta, ovviamente l'output previsto è nulla perché nella tabella attributi non ho nessun dato e non ci resta quindi che andare a lavorare sulle coordinate. Facciamo anche un primo test di funzionamento, inseriamo un punto, ecco qui, è stata inserita subito la coppia di coordinate con il sistema di riferimento corrente e ovviamente abbiamo qui il menu a tendina che abbiamo preparato in precedenza. Quindi interrompiamo la sessione senza andare a salvare nessun tipo di punto e torniamo a quello che stavamo facendo. Coordinate ne abbiamo parlato, strada pubblica è la solita checkbox che possiamo tranquillamente lasciare così com'è il field immagine. Precedentemente ho già detto che ho settato questo come attachment, quindi come un field in cui è possibile visualizzare quello che è il path, cioè praticamente il percorso all'interno del nostro P5 e salvato un'immagine perché voglio che qui venga inserita l'immagine. Quello che voglio anche andare a inserire è il tipo di contenuto, immagine, in modo da avere un'anteprima all'interno del form, un'anteprima di quell'immagine. Quindi in questo modo noi avremo che quando apriremo il form di inserimento dati, quando si aprirà il form di inserimento dati, verrà generata un'immagine con delle dimensioni o automatiche, quindi vengono prese le dimensioni dell'immagine stessa, per cui se l'immagine è ad esempio 200x300 pixel avremo un'area di quelle dimensioni, se è 2000x3000 pixel avremo un'area immensa in cui è visibile l'immagine. Per fare questo magari io blocco l'altezza, blocco l'altezza in un'area 200 pixel in modo da vedere l'immagine, però non qualcosa di così enorme. Anche in questo caso facciamo il not to none e quindi apply. Dunque non ci resta che fare i primi test di inserimento dati. Quindi ad esempio rimettiamo un punto, in questo caso noi vogliamo andare a mappare ad esempio un chiusino. Inseriamo questo qui. Chiusino di ispezione è su strada pubblica. Chiusino, ecco 600x600 pixel in questo caso. Eccola qui l'immagine. Però è stata ridimensionata al 200 pixel che gli ho impostato io. Ok, quindi se interrompo e salvo, quando vado a interrogare quello che è il punto, nel form anche di interrogazione ottengo l'immagine in anteprima.